Rappresentanza e democrazia un tema che apparentemente forse pochi collegano alla comunicazione ma mai come oggi è urlata la comunicazione persone che hanno ruolo di rappresentanza di tutti noi comunicano con dei tweet che ovviamente non possono fare chiarezza e approfondimento più di tanto. No, infatti è diventato anche molto difficile fare i giornalisti oggi perché proprio la presenza incombente di tutti sui social media rende difficile poi fare le domande. Ognuno comunica con un tweet, ti dice di andare sulla pagina di Facebook e poi appunto non c'è la possibilità mai di poter fare la domanda giusta, di avere l'approfondimento, quindi si parla per slogan e anche fare del buon giornalismo diventa molto difficile. Lei è al Tg1, diciamo che c'è un ruolo di vertice in un telegiornale come questo. Come vede il futuro della comunicazione? Alcuni lo vedono catastrofico, alcuni solo sui social? Ma io credo che la comunicazione, l'informazione deve essere il più possibile trasparente e deve essere di grande qualità. Credo che la vera sfida si possa vincere con la qualità. La battaglia contro i social si fa con le inchieste serie, con le notizie vere, si smontano le notizie finte, false e quindi richiede un grande impegno e un grande investimento. Gli editori devono investire sulla comunicazione perché non si può solo correre e cercare di arrivare primi, bisogna anche arrivare coi tempi giusti e dare le notizie giuste. Quindi si deve creare un rapporto di fidelizzazione con gli ascoltatori, con i lettori. Cioè deve diventare un rapporto indispensabile per verificare se quello che trovo sui social è vero o no.